Anche questa domenica, nonostante il clima rigido e la pioggia abbattente, gli aquilani dei comitati si sono ritrovati armati di carriole, rastrelli, decespugliatori e zappette lungo le monumentali mura della città, perimetrali del centro storico, lasciate ormai in uno stato di desolante abbandono e ricoperte da una foresta di verdi erbacce. L'intervento è ormai urgente e non più rinviabile, più che il terremoto l'incuria e la mancanza di qualunque intervento ha già causato ulteriori sgretolamenti dei vasti tratti delle mura medievali. Tra i volontari e promotori è anche il critico d'arte Antonio Gasbarrini, che ci rammenta inoltre come anni fa si sia speso denaro pubblico per la ripulitura delle stesse, sommengenti ma a vedere oggi sprecate. Come al solito è tragica perché le mura che sono l'elemento di identità, le mura medievali della nostra comunità, a causa della mancanza di manutenzione, stanno per essere danneggiato molto di più di quello che non abbia fatto il terremoto. E di conseguenza noi con questa azione vogliamo richiamare l'attenzione della città perché si restituiscano queste mura ai cittadini, come? Ripulendo innanzitutto e poi consolidando. Tenga conto che per la vegetazione cresciuta non si sa nemmeno che danni hanno ricevuto e quindi non si può intervenire in modo adeguato. Pico Fonticulano che era rappresentato nel 1575 su una pianta della città ha misurato con i passi il perimetro delle mura dell'Aquila e il perimetro delle mura di Napoli e ha rilevato Pino Fonticulano che il perimetro dell'Aquila era maggiore che quello di Napoli, quindi la città è una città grandiosa e noi vogliamo riportarla alle origini nonostante tutte le difficoltà.